Il 26 ottobre la base di casa National Society of Canada presenta la nuova esperata di Gala Pond per informazioni 416-414-7346. Il 27 ottobre la soluzione di Gala Pondese in Toronto festeggiano il 47o anniversario che invitano ad una serata di Gala Pond. Il 27 ottobre il Princess Roger presenta la nuova esperata di Gala Pond. Il 28 ottobre la presenità di Gala Pond. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.